Amdos e Amos Irpine uniscono le forze e danno vita ad un nuovo coordinamento, un'associazione di donne operate di tumori al seno che si occuperà di prevenzione, cura e riabilitazione fisica, psicologica e sociale delle donne e degli uomini con patologie mammarie e oncologiche. Il 9 febbraio scorso la nascita ufficiale grazie alla volontà e caparbietà dell'Amdos di Ariano Irpino, di quella dell'Alta Valle del Sabato, di Forino e di Avellino e le Amos di Grotta Minarda, Montoro, Paternopoli e Solofra. Questa mattina presentazione del nuovo coordinamento con la neo presidente Maria Luisa Rossi e la vice presidente Angela Cresta. L'idea è quella di presentarci come interlocutore unico alle istituzioni provinciali, quindi a livello di territorio rimaniamo assolutamente autonome in quelle che sono le singole attività, però considerata l'importanza della prevenzione e la necessità di partecipare più attivamente ai percorsi di cura e di riabilitazione, abbiamo ritenuto importante unire le nostre voci e quindi essere un unico interlocutore e farci portavoce delle centinaia di donne che circolano intorno alle nostre associazioni e allo stesso tempo avere anche una visibilità extra-provinciale, e quindi iniziare a interfacciarci anche con un mondo del volontariato e in generale della prevenzione più grande rispetto al nostro per poter avviare iniziative e progetti. Fulcro centrale della nuova associazione resterà comunque la lotta alla prevenzione. La prevenzione ha fatto passi da giganti, se prima c'era una prevenzione intorno ai 45-50 anni, era la donna che si rivolgeva a determinare accertamenti allo screening, alla mammografia, all'ecografia, adesso vediamo che la fascia si è molto allargata, già tra 18 e 18 anni già incominciano a fare la prima visita senologica ed è molto importante. Grazie. Grazie a tutti.